via. Amici di Facebook e amici di Instagram, buongiorno, finalmente è arrivato il 23 novembre. Cercherò di essere breve perché in questi giorni vi ho ammorbato con questo tanto atteso Manzo Friday. Siamo nel periodo del Black Friday e anche noi di ShapeNow International Consulting vogliamo offrirvi la nostra migliore offerta. Faccio un breve passo indietro per spiegarvi cosa è successo nelle scorse tre settimane. Moltissimi di voi hanno acquistato la sfida dei 28 giorni, un programma standard che ha permesso, sta permettendo a centinaia di persone di perdere i primi 4-5 chili. Dagli screenshot condivisi in questi giorni avete visto come nella prima settimana c'è gente che ha già perso 3-4-5 chili, 2 chili, quindi come sempre le nostre promesse vanno ben oltre quello che in realtà diamo di grande valore. Allora perché io ho deciso di darvi un programma di 4 settimane ad un prezzo scandaloso, cioè 49 euro? Per farvi capire la potenza dei nostri percorsi, la potenza dei nostri protocolli. Eppure essendo un percorso standard, perché non abbiamo fatto nessuna anamnesi, non abbiamo visto nessun cliente caso per caso, abbiamo estrapolato dai nostri percorsi un percorso che potesse andare bene alle persone che dovevano perdere i primi chili. Allora oggi con il Manzo Friday vogliamo dare la possibilità a quante più persone possibili, meglio ancora alle persone che hanno provato la sfida dei 28 giorni, l'opportunità di entrare nei nostri percorsi personalizzati. Ovviamente questa è un'offerta che riserviamo prima a tutti i nostri clienti e poi di conseguenza a tutti i clienti della sfida e clienti che non ci conoscono proprio, che ci seguono, che hanno intenzione di entrare nei nostri percorsi, ma per una ragione o per l'altra hanno aspettato il momento giusto. Bene, oggi è il momento giusto perché perso questo treno non ce ne saranno più. Dietro di me c'è una lavagna coperta volutamente su cui ci sono scritte le fantastiche offerte che adesso vi andrò ad elencare per il Manzo Friday. Pronti? Fate attenzione. Allora, partiamo subito. Eccole qua. Allora, noi abbiamo sostanzialmente tre tipi di percorsi, adesso non vi vedete, concentratevi sulla lavagna. Un percorso bimestrale, un percorso quadrimestrale, un percorso semestrale. Il Manzo Friday prevede per il percorso bimestrale un mese in omaggio, quindi chi acquisterà il percorso bimestrale riceverà un terzo protocollo, quindi tre protocolli. Un buono sconto da 20 euro da sfruttare in percorsi futuri, per cui una persona che decide di acquistare un bimestrale con un mese in omaggio e che poi desidera continuare o desidera acquistare altri nostri prodotti, servizi, videocorsi, potrà sfruttare 20 euro sull'acquisto successivo. Un personal coach dedicato che vi seguirà passo dopo passo per tutti i tre mesi di percorso. Un supporto Whatsapp non su un gruppo ma dedicato col numero del personal coach che vi assisterà passo passo per tutti e tre mesi. L'accesso a un gruppo privato Facebook soltanto per le donne. Perché è importante un gruppo privato Facebook? Perché è un gruppo di pari e un gruppo di persone che condividono lo stesso percorso che possono gestire emozioni, fallimenti, successi, ricette, momenti down, momenti di esaltazione. Fondamentale per raggiungere il successo. Un check mensile con me. Alla fine di ogni mese verrà fatto un check, le famose fotografie prima e dopo che vedete, analizzeremo il percorso, vedremo i successi, i risultati che sono stati e ottenuti durante il primo mese e successivamente elaborerò un secondo protocollo e andremo avanti. Quindi avrete tre check per chi acquisisce il percorso primestrale. Percorso quadrimestrale con un mese in omaggio. A questo aggiungiamo un video corso di allenamento in omaggio. Quindi potete scegliere, acquistando il programma di quattro mesi, avrete un mese in omaggio più un video corso a scelta tra l'allenamento a corpo libero, l'allenamento con le loop band, con gli elastici o l'allenamento da fare in casa con i pesi. Personal coach dedicato, supporto Whatsapp dedicato, gruppo privato Facebook dedicato e check mensile con me. Per i percorsi più lunghi, per tutte le persone che devono fare un percorso più lungo perché hanno più peso da perdere, perché hanno bisogno di imparare maggiormente come ci si rapporta con il cibo, come si gestiscono i percorsi, avrete due mesi in omaggio. Quindi chi acquista un semestrale ha ben otto mesi di protocollo. Un video corso a scelta di allenamento tra corpo libero, allenamento con le loop band, o allenamento con i pesi. Personal coach, un supporto Whatsapp dedicato, il gruppo privato Facebook e il check mensile con me. Questa è un'offerta straordinaria che sarà irripetibile. Non abbiamo la possibilità di far accedere tantissime persone come è successo per la sfida. Capirete, la sfida era un protocollo standard che abbiamo deliberato attraverso una piattaforma. Qui ogni persona deve essere gestita, deve essere controllata, dovrete mandare un questionario, dovrete mandare le fotografie e va fatto un protocollo specifico per ogni singolo cliente. Capite bene quindi che non possiamo prendere centinaia di persone. L'offerta parte oggi e si esaurirà quando avremo raggiunto il numero dedicato. Sappiate che le nostre clienti si butteranno a capofitto su questa offerta perché è vantaggiosissima, perché rinnovare e avere dei mesi gratis con un videocorso in omaggio in più è un'offerta ghiotta da non lasciarsi scappare. Quindi come sempre daremo preferenza alle nostre clienti e lasceremo spazio a chi ancora non ha avuto accesso ai nostri percorsi personalizzati, sia per chi ha acquistato la sfida, sia per chi è completamente a secco dei nostri percorsi. Quindi per chiunque volesse aderire a questa offerta c'è bisogno di mandare un'email ad info-claudiomanzone.com mettendo il vostro numero telefonico e le fasce orarie in cui un membro del team vi contatterà per fissare un appuntamento e spiegarvi nel dettaglio non tanto l'offerta che la potrete riguardare qua in questo video ma come funzionano i nostri protocolli. Non perdete altro tempo altrimenti rimarrete fuori come per la sfida. Buon Manzo Friday a tutti!